Hi, sono John Peter Sloan, qui per dirti che sympathy non vuol dire simpatia, ok? Sympathy vuol dire compassione, condoglianze. A Milano c'è un bar che si chiama Sympathy Bar e io pensavo, quando l'ho visto, che bello, cioè io entro, parlo con un barista, ho tutti i miei problemi e lui mi coccola, e non sono solo io che ho pensato. Fastidious, you are fastidious, se io ti dico you are fastidious, fastidioso, in inglese non è negativo perché fastidious vuol dire uno che è molto preciso, molto conciso. Se tu sei un cuoco è meglio che sei fastidious. Lo sapevi? No, lo so che non lo sapevi. But tutto questo è nel Speak Now, my course in edicola, ok? The Speak Now, my course for you. Ci sono ancora? Ce n'è, ce n'è. Ce n'è? Allora non capiscono niente, ma com'è possibile che è rimasta ancora Coppia? n'è questa esperanza che non è una cosa più oltima. Ho stato facendo anche reale le cose id什 le inviolvervi con la miaDD è mi proposta sempre più oltima Ich m'occio che è ora,